Rapporto Eco-Mafia 2017 sugli illeciti ambientali, Sicilia ancora sul podio Vant Create City? Fint Free World Prestimes & Plugins. Come da migliore tradizione, restiamo sul podio del rapporto Eco-Mafia 2017 sugli illeciti ambientali. Dal mattone selvaggio, al sistema della gestione dei rifiuti, agli incendi, riusciamo ad essere sempre disonorevolmente menzionati. E' un trend che, purtroppo, non cambia negli anni perché la Sicilia ormai da anni non è più governata, non esiste, infatti, il controllo sul territorio. Lo dice Gianfranco Zanna, presidente regionale di Legambiente Sicilia. In particolare, per quanto riguarda gli abusi, la nostra regione è in testa alla classifica, insieme alla Puglia, con oltre 700 manufatti per chilometro quadrato lungo le coste continua Zanna. Questo dipende dai numerosi tentativi di sanatoria proposti da deputati dell'ARS, come quello di Fazio denunciato da noi la scorsa estate, che, sebbene non vengono approvati, legittimano tanti a riterare abusi e illegalità. Italpress. Did you find app for Android? You can find new free Android games and apps.